Il sistema di controllo della pressione dei pneumatici consente di visualizzare la pressione di gonfiaggio sul quadro della strumentazione, oltre che sullo schermo multifunzione. Segnala al conducente quando la pressione di gonfiaggio è troppo bassa. Dopo aver controllato le pressioni di gonfiaggio dei quattro pneumatici a freddo e, se necessario, effettuata una regolazione, rispettando le pressioni specificate sull'etichetta della porta del conducente, i valori di riferimento della pressione di gonfiaggio possono essere ripristinati tramite lo schermo multifunzione.